we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e mamma mia ma quante cose stanno succedendo in questa ultima manciata di giorni della nostra season numero 8 di fortnite ieri abbiamo visto apparire anzi l'altro ieri la prima runa arancione a sponde del saccheggio e ieri nel tardo pomeriggio beh ragazzi avete visto quello che è successo in game nel video di oggi infatti vi aggiorno sulle rune news il format che ho inventato e che vi permette ogni giorno finché ci saranno degli aggiornamenti di rimanere super super aggiornati con tutto quello che sta per succedere ma parlo anche della nuova skin scoperta per caso nei file di gioco con quell'update di ieri del primo pomeriggio non so se l'avete visto l'avete sicuramente scaricato 260 mega per il pc non so adesso per le altre console quanto fosse l'update ma ha inserito altri elementi pasquali e chiudo anche con le modifiche alla mappa ci sono state delle ulteriori modifiche di cui ancora non vi ho parlato e se avrò due secondi di tempo in questo video le scoprirete tutte intanto voglio ringraziare tutti quelli che utilizzano ogni giorno il mio codice creator xiuderone grazie di cuore ragazzi per scioppazzare nello shop e grazie anche per iscrivervi al canale mi raccomando non dimenticatevi di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica dei miei video e delle mie live ma prima la domandina raga la domandina ve la devo proprio fare perché sapete che ci tengo tantissimo ai vostri commenti qua sotto ed è proprio una domanda molto molto interessante ma cosa ne pensi dell'aviazione reale dai ragazzi la nuova ltm che hanno inserito con la patch 8.4 come vi sembra a me personalmente piace davvero tanto non mi stanca la gioco proprio super volentieri è ovviamente una modalità che fa la differenza se giocata in coppia o in singolo però a parer mio una delle più belle modalità che abbiano sicuramente mai inserito se non altro una delle più divertenti ma quindi ciao ciao le bande e bando alle ciance si va si va si va ed eccola qua ragazzi la runa che letteralmente è apparsa vicino al camion quello in bilico dove c'è a prodo avventurato diciamo proprio all'inizio del bioma del deserto questa runa ragazzi appunto è apparsa ieri pomeriggio indicativamente verso le 17 30 18 e come vedete colori molto molto simili al allo come si chiama lascia quella a spettro no quella tutta iridescente colori ragazzi che oltre a essere bellissime celano anche un bel mistero perché questa runa si muove ragazzi e non solo sapete benissimo che è possibile colpirla letteralmente con il piccone sparandogli lanciandogli gli esplosivi ogni volta che i giocatori globali totalizzano un milione e 500 mila punti d'anno la runa sembrerebbe muoversi nel periodo di ieri dove c'è stata la più concentrazione di player che hanno letteralmente attaccato la runa si muoveva ogni 17 secondi e questa runa ragazzi anche se ogni tanto rilascia un suono con lo spettrogramma che state vedendo alle mie spalle non nasconde per il momento nulla sapete che quando c'era l'evento del razzo messi i suoni nello spettrogramma davano proprio la forma del razzo quando ci fu l'evento della sfera a picco polare i suoni messi nello spettrogramma davano la forma del re dei ghiacci questa volta invece non c'è nessuna forma particolare ma una cosa davvero interessante eccola qua ragazzi è la primissima mappa che vi indica proprio il percorso che fino a poche ore fa ha compiuto la runa stessa come vedete si è materializzata nella parte inferiore della mappa si è mossa attraversando la parte dietro di lande arrivando da prima fino alla montagnola quella dove c'è l'accampamento dei pirati e poi proseguendo il fiume e attualmente rimanendo vicino alla montagna quella che dà a condotti confusi voglio però farvi una domanda vi dice niente questo percorso vi do qualche secondo per pensarci dai e che forse ve lo ricordate guardate un po proat per il momento sembra essere lo stesso percorso di kevin ovviamente tutti sappiamo che kevin è nato dalla fenditura gigante del cielo nella montagna quella con tutti vi ricordate i fulmini che lasciavano ogni tot ore un buco nella montagna ma il percorso se lo guardiamo leggermente è molto molto simile a quello che ha fatto adesso la runa e io voglio dirvi voglio lanciarvi una scommessa porca miseria secondo me la runa tira giù il palazzo di pinnacoli io lo sento lo sento anche perché se non ricordo male durante il primo pezzo che ha percorso ha abbattuto due alberi non è una cosa da niente ragazzi dovrebbero essere due alberi che non sono più quindi presenti ad ogni start game staremo ovviamente ragazzi a vedere quale saranno le cose anche perché è molto plausibile pensare che si attiveranno altre rune nel corso di questi giorni davvero molto molto presto ma andiamo avanti ed eccola qua una delle skin trovate nei codici in realtà ho letto che qualche streamer polacco ha già questa skin ora io non voglio approfondire il perché di qualche streamer polacco abbia già questa skin si chiama night here o night hire penso che si pronunci è un coniglio come vedete non di certo amichevole quindi molto molto da incubo infatti night hard dovrebbe essere una specie di slang come nightmare che sarebbe incubo questo coniglio sarà di rarità epica innanzitutto accompagnato dal suo backpack sapete che avevamo già visto una delle skin ancora non rilasciate per pasqua il ninja coniglio beh questa ragazzi proprio io non me l'aspettavo così come nessuno si aspettava la skin hooper che è uscita ieri nello shop il suo backpack ma ragazzi guardate che storia il piccone ragazzi la steel carrot si chiama se non ricordo male ed è veramente tanta tanta roba è un'ascia formata a forma di carota di metallo voglio però farvi vedere questo ragazzi perché qualcuno in realtà lo ha già potuto inserire nei suoi file di gioco ed eccola qua alle mie spalle ragazzi il gameplay chiamiamolo così della nuova skin che come vedete è bella raga dai non mi dite che è brutta questa skin secondo me non è assolutamente malvagia molto molto interessante staremo a vedere o scommetto che sarà stamattina nello shop sicuro 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 ed ecco qua ragazzi il tris degli oggetti 2700 v bucks il set completo ma prima di chiudere il video ragazzi vi mostro un'altra novità arrivata con questo aggiornamento tutti coloro che hanno shop anzi hanno acquistato la scheda della invidia j force e quindi hanno ottenuto la skin reflex oltre ad avere lo stile personalizzato nero che è stato dato da pochi giorni avranno anche il banner invidia esclusivo quindi un super banner disponibile solo per chi l'ha acquistata normalmente non ha invece preso il codice online beh ragazzi le modifiche della mappa cercherò di dirvele nel video di domani mattina per oggi io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel like se vi è piaciuto codice creator xiodarone noi ci vediamo alle otto e mezza in live ciao